Sai una cosa, Madison? Pensa, da quassù si riesce a vedere addirittura il polo nord. Non sapevi, tesoro? Questo è il posto che al tuo papà piace di più di tutti quelli che ci sono al mondo. Tre per la pista rossa, grazie. Sì, o possiamo raggiungere la zia Fisch e verci una bella cioccolata calda. Che vista magnifica, che meraviglia. Andiamo, su, andiamo. Ma dai, non dobbiamo spararci da un cannone. Una volta ti piaceva tanto. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Sei volto in qualche libro. No, io no, non è vero. Stai dicendo una cosa ridicola. Su, Madison, andiamo. Facciamogli vedere. Piano piano, eh? Mi raccomando. Piano piano, eh? Mi raccomando. Grazie a tutti.